Isola dei Famosi Isola dei Famosi, gossip da Londuras, notte di passione tra due naufraghi? Alfonso Signorini ha lanciato un gossip clamoroso sullisola dei Famosi, pare che due concorrenti impegnati, abbiano avuto una notte damore. . La tredicesima edizione del cancelletto Isola dei Famosi starebbe per subire lennesimo scossone, dopo il polverone sollevato da Eva Enger sul presunto uso di marijuana da parte di alcuni concorrenti, la rivista che fa sapere che presto potrebbe venire fuori un altro tipo di scandalo. . Stando a quello che racconta il giornale di Alfonso Signorini nel suo ultimo numero, due naufraghi impegnati sentimentalmente si sarebbero lasciati andare alla passione, di chi si tratta? E soprattutto, questo delicato cancelletto gossip verrà affrontato nel corso di una delle prossime puntate in diretta?. . Isola dei Famosi 2018, passione segreta tra due concorrenti non liberi? Alessia Marcuzzi laveva ribattezzata come ledizione dei misteri, ma elle cancelletto Isola dei Famosi che stiamo vedendo da qualche settimana a questa parte, sembra essere incentrata più sugli scandali. . Inizialmente è stata Eva Enger ad accendere i riflettori del gossip sul reality di Canale 5, accusando Francesco Monte di aver comprato e fumato marijuana nei giorni precedenti alla prima puntata. . Mentre in Italia si continua a parlare da oltre un mese del canna gate e delle prove che quotidianamente vengono fuori, soprattutto grazie a striscia la notizia, video, pare in Honduras sia andato in scena un nuovo scandalo, questa volta sentimentale. . Stando a quello che racconta il giornale chi nel suo ultimo numero, due naufraghi con il cuore non libero si sarebbero lasciati andare alla passione qualche notte fa. . Sulle pagine della rivista scandalistica, dunque, si legge, tra i tanti scandali che hanno colpito questanno lisola, ce nè uno che non è ancora saltato fuori. . Si dice che tra due concorrenti occupati sentimentalmente sia scattata una scintilla che sarebbe stata fermata quasi sul nascere, quasi. . 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 Un settimanale diretto da Alfonso Signorini per raccontare questo scoop, sembrerebbe essere nata una forte attrazione tra due VIP che da più di 30 giorni condividono le spiagge honduregne, due VIP che però avrebbero lasciato a casa la loro dolce metà. Isola dei famosi, cosa accadrà durante la sesta puntata?. Qualora dovesse essere vera la notizia che ha diffuso chi in queste ore, vorrebbe dire che due concorrenti dell'Isola dei famosi potrebbero aver messo a rischio le loro storie d'amore lasciandosi andare alla passione in Honduras. Anche se il giornale di gossip non fa i nomi dei protagonisti di questo nuovo scandalo che avrebbe colpito il reality di Canale 5, non è difficile immaginare di chi si tratti. . Fatta eccezione per Paola Di Benedetto, Marco Ferri, Jonathan, Francesca Cipriani e Simone Barbato, tutti gli altri naufraghi di questa edizione sono impegnati, chi di loro avrà ceduto all'istinto, rischiando di perdere la persona amata. . Nell'attesa di scoprire se questa chiacchiera verrà affrontata anche durante la diretta di martedì 27 febbraio, riportiamo le indiscrezioni su quello che accadrà nell'attesissima sesta puntata del reality, uno tra Franco, Paola e Gaspare dovrà lasciare il gioco, ci saranno nuovi ingressi, si parla sia di VIP ripescati che new entry, e sarà comunicato al gruppo che il programma è stato allungato di una settimana, perciò la finalissima è slittata al 17 aprile. . Come reagiranno i concorrenti a tutte queste novità?. .